Come sono classificati gli atti amministrativi? Lo vediamo in questo video. Dunque parliamo di uno di quegli argomenti che rientra nell'ambito degli elementi generali del diritto amministrativo. È una domanda sui quiz o nei quesiti è risposta a domanda aperta oppure all'orale. Noi concorsi in pubblica amministrazione su queste cose diciamo che ci scappa quasi sempre. E allora cosa facciamo noi in questo video? Beh facciamo, o perlomeno l'ambizione è quella di cercare di creare uno schema ad uso riepilogativo che magari può essere utile e che ovviamente poi si accompagna e mai sostituisce quello che è lo studio da fare e che ognuno di noi poi farà sui propri testi, libri, corsi, videocorsi e quant'altro. Questo è come sempre la solita premessa che faccio praticamente in ogni video qui su YouTube perché questi video su YouTube devono servire per farci poi approcciare meglio un'analisi più approfondita che andremo a fare sui nostri strumenti di studio. Poi fra questi se avete piacere potete andare a dare un'occhiata anche ai videocorsi che preparo personalmente per la piattaforma www.formazionediritto.it li preparo personalmente io con la mia modalità di spiegazione però chiaramente sono un approfondimento adeguato per una preparazione ad un concorso cioè non è che sono come questi video su YouTube, ripeto, molto schematici mi fa piacere chiaramente che vengono apprezzati però insomma è chiaro che poi per la preparazione serve un'analisi più verticale che ovviamente nei corsi viene ad essere svolta. Bene, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e adesso però andiamo a vedere come vengono classificati gli atti amministrativi perché infatti noi possiamo subito dire che di qualche modo ci sono diversi criteri di classificazione e questi criteri di classificazione è utile ricordarceli perché poi ci sono utili mentalmente possiamo crearci dei piccoli schemi operativi utili sia per la nostra preparazione e anche poi per il nostro ricordo. Vediamo le più importanti classificazioni quelle che un po' troviamo nei vari strumenti di studio. Allora, una prima classificazione degli atti amministrativi avviene in base, o comunque diciamo usa quelli criteri di riferimento, il procedimento. Ed in tal senso si distinguono gli atti procedimentali e gli atti presupposti. Gli atti procedimentali sono gli atti che fanno parte di un procedimento amministrativo e sono, si dice, preordinati all'emanazione del provvedimento finale. Pensate alle richiesti, i pareri che si fanno nel corso del procedimento per arrivare al provvedimento finale. Gli atti presupposti invece sono quelli che, pur essendo autonomi rispetto ad un atto successivo, ne costituiscono il fondamento. Pensate, anche qui con gli esempi che capiamo sempre un po' meglio, pensate alla dichiarazione di pubblica utilità nel procedimento di espropriazione che si conclude con un decreto di espropriazione. Qui la dichiarazione di pubblica utilità è atto presupposto del decreto di espropriazione. O qual è una conseguenza poi di questa distinzione? È che questi atti presupposti devono essere impugnati nei termini e il loro annullamento produce un effetto invalidante, anzi si dice in alcuni casi caducante, nei confronti degli atti e dei procedimenti collegati. L'annullamento del provvedimento presupposto, si dice, per usare i propri termini tecnici, si ripercuote su quello che è adesso direttamente collegato e che si chiama presupponente che viene caducato. Bene, andiamo avanti. Altra classificazione degli atti è in relazione alla reciproca interdipendenza. In questo caso distinguiamo atti contestuali e atti composti. Gli atti contestuali sono quelli che contengono manifestazioni di volontà distinte ed autonome, ma unificate in un unico atto. Anche qui esempio, l'annullamento d'ufficio di un atto. Questo annullamento d'ufficio di un atto comprende sia l'accertamento e l'illegittimità dell'atto precedente, che la sua revoca. Ricordiamoci però in questo caso che il vizio relativo a un solo atto non si estende all'intera manifestazione finale dell'atto stesso. Gli atti composti sono quelli in cui invece le manifestazioni di volontà si uniscono in un solo atto e perdono quindi la loro autonomia. Di conseguenza, il vizio di una delle manifestazioni di volontà si estende all'intero atto, a differenza invece di quello che accade negli atti contestuali. Come esempio pensiamo all'autorizzazione unica, rilasciata da un comune che può comprendere diverse autorizzazioni. Andiamo ancora avanti. Distinguiamo atti anche in relazione alla discrezionalità. In questo caso, insomma, abbiamo detto anche più volte, distinguiamo atti discrezionali e atti vincolati. Il provvedimento alla natura di atto vincolato quando viene messo in adempimento di un preciso obbligo giuridico, ossia ogni volta che ne sussistono i presupposti stabiliti, si invia, si dice, a stratte generale dalla legge. Quindi, la conseguenza qual è? Che nel caso di provvedimenti vincolati, l'attività amministrativa si esaurisce praticamente nel verificare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di quel provvedimento. Non è che bisogna fare altro. Pensate, normalmente, per fare un esempio di atto vincolato, alle sanzioni in generale, all'ordine di ripristino in materia di vizia. Una volta accertata che c'è una non corrispondenza con gli strumenti urbanistici stabiliti, oppure con la legge, non è che c'è da fare alcuna valutazione astratta o una discrezione. Scatta all'obbligo della sanzione. Viceversa, nell'ipotesi di atti discrezionali, come sappiamo, l'amministrazione va ad esercitare tutta una serie di facoltà di scelta per soddisfare quello che è l'interesse pubblico e per il perseguimento, diciamo, di quello che è il potere che esercita essa stessa, contemperando anche gli interessi in gioco. Quindi, nell'ipotesi di attività discrezionale, noi vediamo che l'amministrazione può scegliere se agire oppure se astenersi, può scegliere anche quello che è il contenuto del provvedimento, la procedura da seguire per raggiungere un determinato risultato, anche il tempo, entro certi limiti, il tempo di azione. E dov'è che rileva in particolar modo questa distinzione, così facciamo anche qualche collegamento? La distinzione fra atti discrezionale e vincolato riguarda in particolar modo l'obbligo di motivazione. Perché? Perché la giurisprudenza, questo è anche la dottrina, ma insomma teniamoci sempre anche alla giurisprudenza, in relazione ai provvedimenti che sono vincolati afferma che è sufficiente, diciamo, la mera giustificazione del potere esercitato, cioè del fatto che io posso esercitare questo potere, io PA, l'indicazione quindi dei presupposti normativi e fattuali, nient'altro, mentre invece negli atti discrezionali è altro che se è importante la motivazione, ancora di più. Andiamo avanti ed altra distribuzione riguarda i destinatari. Distinguiamo in questo caso fra atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali. E lo so che già ci giro la testa, ma andiamo avanti a cercare di capire. L'atto particolare è destinato ad un unico soggetto, mentre laddove ci siano più destinatari è qui che dobbiamo distinguere fra atti collettivi, plurimi e atti generali. Gli atti collettivi cosa fanno? Sono quelli che provvedono unitariamente, discindibilmente, nei confronti di un complesso di individui considerati non come singoli, si dice, ma come esponenti di un unico contesto. Esempio per capire, pensiamo allo scioglimento di un consiglio comunale. Quindi i soggetti sono già individuati con precisione, appartengono ad una categoria che viene però considerata nel suo complesso. Gli atti plurimi invece, in questo caso, gli atti plurimi sono l'insieme di provvedimenti sostanzialmente distinti e anche indipendenti tra di loro, però che sono tutte quante radunate in un unico atto. Pensate, un atto che contenga, con riferimento a incarichi di nomina, ne contiene magari la nomina di incarichi in diversi funzionari, abbiamo un unico atto, ma ognuno con un suo specifico valore ed efficace. Ma gli atti collettivi e gli atti plurimi sono diversi dagli atti generali. Sugli atti generali mi pare, ho già fatto un video, e perché sono diversi dagli atti generali? Perché negli atti generali, quando parlo di atti generali, pensate ai bandi di concorsi e bandi di gara, insomma, classico esempio che viene fatto per indicare atti generali, in questi atti destinatari non sono determinabili ex ante, ma solo ex post, ossia nel momento dell'applicazione, a differenza di quello che accade negli atti collettivi o plurimi, dove invece i destinatari sono determinabili, in questo caso ex ante. Inoltre, a differenza dell'atto generale che di regola per la sua generalità non è immediatamente lesivo delle posizioni di singoli soggetti, gli atti collettivi o plurimi invece sono fonti di effetti pregiudizievoli immediati, perché direttamente incidono sulla posizione di singoli soggetti. Andiamo avanti, ulteriore distinzione degli atti amministrativi è in relazione alla natura dell'attività, e qui distinguiamo, è una distinzione questa classicissima che si trova sempre, tra amministrazione attiva, consultiva e di controllo. Molto rapidamente, l'attività di amministrazione attiva comprende tutte le attività attraverso le quali, diciamo, l'amministrazione realizza i propri scopi, in ogni fase del procedimento, quindi autorizzazione, concessioni, ordini, divieti. L'attività di amministrazione invece è consultiva quando consiste nell'emanazione di pareri, consigli, direttivi, orientamenti oppure anche chiarimenti in favore di organi di altre amministrazioni attiva che devono poi prendere delle decisioni. L'attività di controllo consiste invece nel sindacato dell'attività di amministrazione attiva effettuato anche qui secondo quelli che sono controlli di legittimità o di merito. I controlli di legittimità sono quelli che vanno a valutare la conformità alla legge fondamentalmente, mentre i controlli di merito valutano i profili di opportunità, diciamo di utilità, di convenienza economica. Ok? Andiamo ancora avanti perché in relazione invece all'elemento psichico, altro criterio, noi distinguiamo atti consistenti in manifestazioni di volontà, atti consistenti in manifestazioni di conoscenza e atti consistenti in manifestazioni di giudizio. E anche qui mani in testa ma andiamo con calma. Che vuol dire facciamo degli esempi, chiaramente tutto un po' molto schematico. Quando parliamo di atti consistenti in manifestazioni di volontà ci riferiamo ad esempio al provvedimento amministrativo, la manifestazione di volontà portata all'esterno della pubblica amministrazione. Oppure se parliamo di atti diversi dal provvedimento amministrativo ci sono anche alcuni atti del procedimento amministrativo come le richieste, gli accordi preliminari. Quando invece pensiamo agli atti consistenti in manifestazioni di conoscenza, pensiamo ad esempio alla documentazione, alla certificazione. Dove lì che cosa si fa? Si fa una ricognizione dello stato di fatto o di diritto che vengono indicate dai privati. Non c'è una manifestazione di volontà all'esterno. Invece gli atti consistenti in manifestazioni di giudizio, questi ormai li conosciamo, sono i pareri e le valutazioni. C'è una differenza. I pareri sono atti consultivi, le valutazioni invece sono giudizi. Giudizi circa le qualità, l'idoneità di persone o cose, ad esempio l'idoneità fisica ad un impiego o la valutazione della performance è appunto una valutazione, non è un parere. Andiamo avanti ancora. In relazione all'efficacia c'è un'altra distinzione e distinguiamo gli atti costitutivi dove la pubblica amministrazione crea, modifica o istingua il rapporto giuridico, pensiamo ad esempio a concessioni di cittadinanza, no? E gli atti dichiarativi, gli atti dichiarativi come ad esempio un certificato di stato civile, un certificato di nascita, che si limitano ad accertare una determinata situazione senza nessuna modifica. Infatti gli atti dichiarativi, come sappiamo, non sono provvedimenti. Infine, in relazione al risultato si distinguono gli atti ampliativi dove si attribuiscono ai destinatari nuovi poteri o facoltà, quindi pensate all'autorizzazione, alle concessioni, e atti restrittivi dove al contrario si restringe la sfera giuridica del destinatario su tutte pensate all'espropriazione, ma anche una sanzione. Bene, allora, io ho detto infine, no? Ma in realtà nella classificazione degli atti amministrativi molto spesso sembra che non si finisca mai, perché poi se uno va a vedere insomma anche nei diversi manuali spesso troviamo distinzioni anche basate su classificazioni differenti, io ho cercato qui in questo video di riproporre un po' quelle generali che normalmente ritroviamo un po' in tutti i nostri strumenti di studio come sempre nell'ottica di cercare di comprendere i meglio. Spero di aver dato un contributo, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, insomma, se state preparando concorsi in pubblica amministrazione e inevitabilmente dovete un po' studiare questi tipi di materie cerchiamo di farle insieme e se avete piacere andate a dare anche un'occhiata ai corsi che preparo sulla piattaforma www.formazionediritto.it Alla prossima!